Salve a tutti giocatori e benvenuti in un nostro nuovo video Banded Prediction parte 2 E ci andremo a concentrare sulle cose un pochino più problematiche Forse sarà una Banded Prediction un po' più cattiva del previsto Non lo so, però adesso andiamo a vedere Pian piano andiamo ad analizzare le carte che ho messo prima di iniziare Comunque come sempre vi invito a iscrivervi al nostro canale prima delle time per giornati E ricordo che l'iscrizione ci è avuta tantissimo Io vi ringrazio Detto ciò partiamo Allora Snake Eye deve essere hittato prepotentemente Secondo me Non ho messo roba Yubel al momento Perché effettivamente Yubel è forte Però le carte che sono uscite sono troppo recenti E si con tutto che con Fismith è forte Non è così problematico come Snake Eye E come potrebbe diventarlo Snake Eye Quindi al momento forse Yubel può salvarci Al momento Per quanto riguarda Tempai secondo me nulla verrà toccato Per quanto riguarda anche Sentryon E ovviamente Calamity Non fa nessunissimo tipo di danno Al momento non è così pesante Non è mai stato così pesante da quando è uscito il mazzo Quindi non l'ha messo Prosperity a 1 Non ha... Cioè è fortissima la carta Ma non verrà mai messa a 1 Credo E poi può essere pure che sbaglio Però è tipo anni che La gente predice la prosperity a 1 Ma non l'hanno mai messa Poi magari che... Oh! Assolutamente Può essere che la metteranno a 1 in questa Io avrò detto adesso una cavolata Però per me al momento Roba come prosperity a 1 Non la vedremo Allora Banded Tra le bandite Allora Sarà difficile Perché non penso proprio La vadano a bandire Il Flamberg Però effettivamente È una carta molto molto forte Che ti dà troppo Troppo modo di Farti Tutti i link che ti servono Si è magari troppo facile Si manda al cimiter Troppo facile Ti Ricicla Mostri troppo facilmente È una carta troppo forte Effettivamente Per come gioca il mazzo Che uno dice Si è a Pollosa Questo e quell'altro Però parte tutto da Flamberg È molto più probabile Che vadano a bandire a Pollosa Per non toccare Flamberg Come di solito fanno Però io lo andrei a bandire Lo andrei a bandire Perché si Ma anche se lo giochi in 1 per Rimane comunque Una di quelle carte Che ti danno troppo vantaggio Secondo me Te la togli troppo facilmente Ti evoca 2 E è troppo forte Per me Flamberg è troppo forte Per come gioca il mazzo E Per me deve essere bandito Deve essere bandita In modo da poter Depotenziare il mazzo Molto probabilmente Non la toccheranno Però secondo me Dovremmo toglierla Albion Sempre per il fatto mix Imponente Della lock Perché si Può andare a bandire target Ok Ok Bandi direttamente L'incipit Che ti fa fare le cose E via Tanto ne abbiamo parlato Tanto L'unico Hit Possibile Che potrebbe Prendere Branded Se Branded Prende altri Hit Quegli Quelle Hit Secondo me Non hanno senso Di esistere Perché il mazzo Sta lì Fa le sue cose L'unica cosa fastidiosa È questo Perché ti lock Per il resto Stai abbastanza tranquillo Tra le banded Potrebbe finirci Beatrice Beatrice Secondo me Secondo me Sempre per il fattore Fismith Non lo andranno A toccare Beatrice Però effettivamente È una di quelle carte Che potrebbero Tecnicamente Oggettivamente Andare in banded Anche perché Poi c'è Anche King Caesar Che effettivamente Potresti andare A sfruttare Con la combo Fismith Anche se Beatrice Comunque È più forte È molto più Sfruttabile È un dito In quel posto Quindi Io Ripeto Secondo me Non la toccheranno La lasceranno Ancora in uno Per Per un po' Però effettivamente Potrebbe essere Un'altra hit Da banded Anche perché Oggettivamente Di carte banded O ci metti Queste O che ci metti Che ci vuoi mettere La tartaruga catapulta Ma non fa Non c'è Non abbiamo Tachyon Al momento Che cacchio Metti la tartaruga catapulta No Per dire Dei band preventivi Al momento Non Non ce ne sono Vuoi mettere Skill drain Dopo andremo a parlare Però secondo me Le limiteranno Tutte le carte Da float gate Nel modo Che comunque Possono essere Ancora sfruttabili Vedremo Limitate Ash Assolutamente Ash Perché comunque Devi andare a Depotenziare un pochino Il mazzo E continua Sempre a giocare Continua sempre Comunque a giocare Il deck Nonostante Tu Gli vada A limitare Determinate cose Quindi Diciamo che Avendolo Uno per Ci puoi mettere Più popolus Ci puoi mettere Più ok Il mazzo Comunque Continua a giocare Tranquillamente Anche se Gli togli flamberg Con l'engine Fizzbeat Il mazzo Continua a giocare Non muore del tutto Ma un'altra carta Sicuramente Che voglio vedere Poi si C'è la questione L'hanno ristampata Nelle ultimate Cristo E si E' vero Avete ragione Ogni volta che vengono Ristampate Nelle ultimate Non Si toccano Però Secondo me È una cosa Profondamente Ingiusta Per amore del gioco Toccate questa Ash E poi Wanted La wanted In uno per Perché comunque È sempre fortissima Anche questa Mettendola per Ripeto Dei potenzi Un po' Il mazzo Che continuerà a giocare Ma soprattutto Per quanto riguarda Asamina Perché tu Non puoi tenere Altre carte Sinful Spoils Così forti Libere Per quando uscirà Asamina Perché una band Prima dell'uscita Del set Non verrà E se continueranno In questo In questo Modo Soperandi Ovviamente Aspettaranno Prima l'impatto Di rage of the abyss E poi Andando a toccare Le carte Ecco Andiamo a toccare La wanted Preventivamente Perché È troppo forte E poi con una Asamina Diventa una roba Troppo eccessiva Diventa veramente Una roba Troppo eccessiva Ti prendi la De bellestar La bandisci C'è un bersagno Troppo le sfoglie Peccato che te le vai A riciclare E poi Cioè È fottutamente Forte E per quando uscirà Asamina Sto parlando già Per molto Preventivamente Saranno dolori Sono già dolori Adesso In modo Se la metti A 1 per Riesci comunque A depotenziare Snakeai In una maniera Abbastanza decente Tanto continuerà a giocare E via Perché comunque Lo spam di Snakeai È tanto Perché comunque Snakeai Non so così Per una volta Per una volta Che fanno Qualcosa Non so Così Enormi Come queste carte Qui Quindi direi Insomma Questa cosa Qui Insomma E andare A tamponare Un pochino Ecco È un po' Cattiva Perché vai A toccare Snakeai In maniera Un po' Pesante Però Per me È quello Che bisogna Bisogna Fare Skill drain Per quello Che dicevo A 1 Perché Comunque Lo ripeto I floodgate Per me Rimarranno Uno Per tutti Quanti In modo Da poter essere Comunque Un po' Giocati E questo Un po' Per il Fan service Electro Un po' Per il Fan service Anche perché Comunque Usciranno Gli oddice No Cioè Ristampano Gli oddice Ma lo vogliamo Sbandire In modo da poter Dare ai pendoli Qualche cosina Di nuovo Anche perché Poi uscirà Quello che dovrebbe Essere Comunque L'archetipo Pendolo Quanto pare Di Alice Nel paese Nel melaviglio Di crossover Breaker La carta È molto Molto Forte Però Non è così Eccessiva Come altre E sappiamo Che comunque L'Occ Ci hanno Pendolo Nella potenza Massima Non fa niente Va bene Che il meta È diverso Assolutamente Però una possibilità Gliela possiamo dare E poi Nuno per Fontana Runic Perché comunque Il mazzo Anche perché Lo mischi Con tante cose La Terreno È effettivamente Oggettivamente Molto Molto Forte Tenerla Nuno per Magari Ti consente Comunque Di giocare Il mazzo Fa le sue Top Non è Così Tra virgolette È un pochino Pesante Però Non è così Oppressivo Magari Però Fontana Runic Potrebbe Non dico Verrà toccata Però potrebbe Essere un hit Così come Punta Runic In 2x Sono le uniche Due carte Di Runic Che potrebbero Essere Toccate Perché comunque Runic Sappiamo Che è uno Di quei mazzi Che comunque È splash Tanto splashabile È un po' Pesantino Quindi potrebbe Rischiare Qualche Hit Bonfire In 2x Eh sì Va così Oggi Va così In questa Banda Va così Va così Dobbiamo andare A limitare Tutti i mazzi Fuoco Perché ormai I mazzi Fuoco Stanno un pochino Devono un pochino Lasciare spazio A quello Che verrà Fuori Dopo Quindi Bonfire Secondo me In 2x Va bene Come altre Hit Perché Ripeto Rimane Sfruttabile Usufruibile E va a depotenziare I mazzi Che lo sfruttano Troppo Poi vabbè Io ho messo Un cambiare 2x Perché magari Lo possono Metere Vabbè E Ultimo Ultimo Discorso Importantissimo L'ho messo Proprio fuori Perché Effettivamente È un discorso A parte È un discorso Molto a parte Max e C È per la prima volta Mi sa che ne parlo Nella band Allora Perché Max e C Perché Le combinazioni Che usciranno Sono troppo Forti Perché Non abbiamo Modo Ora come Ora Di poter Restare al passo Con tante Si Sempre Asamina Fismith Snegai Perché Fanno Troppe Cose Le ht Addirittura Non bastano È un modo Sia Per magari Andare a potenziare I deck Alla Tempai Che comunque Vanno a pescare Poi dipende Pure come Verranno Toccati Con i deck Dipende Anche Dal numero Di carte Verranno limitate Perché Ci serve Modo per pescare Carte Per andare A bloccare Quel cavolo Di mazzo Bisogna Prendere Più carte Possibili Pescare Più carte Possibili Al deck Anche in modo Da Parare Un attimino In modo Che l'avversario Non vada A specialare Troppe carte Va bene Uscirà Purulia Ma La March Marmi Le due March Marmi Comunque Non basta Cioè Non basta Max C Con La Purulia Con la nuova Uscita Per andare A bloccare Il mazzo Perché magari Non riesce a pescare Abbastanza cattività Tirare Contro L'avversario E' una cosa Veramente Insensata Lo so Perché Comunque Sono troppe Sono troppe Cattive A giocare Tantissime Entrap Che poi Vanno a Depotenziare Un po' Il mazzo Perché tu Devi avere Spazio Per attivarle Per andare A bloccare Le giocate L'avversario Però Per quello Che hanno fatto Per quello Che si sta Vedendo Hanno un mazzo Decisamente Troppo Forte Perché Fa le combo Nel mezzo Delle combo C'hanno anche Negate Quindi Non basta Tirare Veler Non basta Tirare Nibiru Non basta Tirare In permanenza Non basta Tirare Forse Shifter Aiuta Però Possono Sempre Negarlo Shifter Comunque Non l'ho messo Perché secondo me Non lo toccheranno Non vorrei Che lo toccassero Effettivamente Però Secondo me Non lo andranno A toccare Quindi Max C'ha un discorso Particolare Perché potrebbe Prendere Piede Perché Non abbiamo Modo Di andare A contrastare Poi il top Mazzo meta Che uscirà Ovvio Ci saranno Mazzi Che comunque Riusciranno A vincere Al di fuori Di quello Però Effettivamente Per andarla A contrastare Non basta La mano Iniziale Quindi Bisogna andare A pescare Più carte Possibile Anche per Poi andare A ripartire Quindi Max C potrebbe Essere Forse Non dico Al momento Potrebbe Essere Una carta Da tenere In considerazione Per il futuro È incredibile Che ne stia Parlando Così Convinto Perché Di solito Dico sempre Max Non lo toccheranno Mai Sono sei anni Ma Forse È il periodo Storico In cui Potrebbe Uscire fuori Quel mazzo Fa troppe cose C'ha Dei negate Mentre fa le combo Quindi Dico quello Perché Effettivamente È quello Il mazzo Più forte Che ci sarà E sarà Quello Che Troveremo Di più Lo stiamo Vedendo L'abbiamo visto Quelli In full spoils Non c'hanno Senso Ecco Perché Anche Il discorso Della Wanted Quindi Per la prima Volta Parlo di Max 5 In questa Maniera Ne ho preso Un po' Di spazio Nel video Però Era Doveroso Tirlo Non credo Che al momento Verrà toccato Oppure Piano piano Addirittura Parti da Uno Poi due Poi tre Però Insomma Voglio dire Tanta Tanta Roba Potrebbe Ritornare Non so Se ho detto Misto saura 2 Non mi ricordo Se l'ho detto Chiedo Venia E si Liberiamo Misto saura 2 Dai Proviamo Comunque Dino Potrebbe essere Un mazzo Interessante Che potrebbe Fare delle sue cose Misto saura Comunque Ci sarà Qualche cosa Da poter Sfruttare Comunque Dino Un mazzo Che potrebbe Essere Interessante Misto saura 2 Potrebbe Essere Utile Non mi ricordo Effettivamente Se già l'ho detto Se ho Puchi di memoria Chiedo Vegna Però nel dubbio Lo siamo andato Lo siamo andati A rivedere Ok Questa era la mia Bad prediction Potrebbe essere Sbagliata Potrebbe essere Giusta Potrebbe essere Completamente Fallace Però È quello Che penso È quello Che penso E vediamo Effettivamente Se Se Faranno così Se andranno a toccare Se andranno a toccare Magari altri mazzi Se Addirittura Andranno a toccare Subito Tempai Anche se Secondo me Aspettavano un pochino Magari forse Altri Per Invitarla subito Boh Mi pare Parebbe eccessivo Però Non lo so Detto questo Ragazzi Comunque Fatemi sapere voi Cosa pensare Ovviamente Noi Come sempre Ci vediamo In un prossimo video E Un saluto A tutti